Si chiama Matilde, pesa 3 kg e 300 g per 51 cm di lunghezza ed è lei la prima bambina nata nel 2019 in tutta l'Ulse 6 e Eugania. Matilde è venuta al mondo alle 5.51 del 1 gennaio nel reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Cittadella, diretto dal dottor Roberto Rulli. E' arrivato invece poco prima di pranzo, alle 11.49 Pierpaolo, 2 kg e 945 g, primo nato nella sala parto dell'ospedale di Campo San Piero. Un centinaio di botti sequestrati, privi del marchio CE, non in linea con le normative della Comunità Europea. E' questo l'esito dei controlli effettuato nei giorni scorsi dalla Polizia Locale della Federazione del Campo San Pierese. I controlli hanno interessato diversi negozi nei comuni di Santa Giustina in Colle, Campo d'Arsico e Campo San Piero. Quasi tutte le attività commerciali controllate sono risultate in regola con la normativa di settore e in possesso delle necessarie licenze di pubblica sicurezza per la vendita di articoli pirotecnici. Unica eccezione è il negozio gestito da cittadini di origine cinese di Campo d'Arsico. Per i commercianti ora è prevista una sanzione compresa fra 20 e 60 euro per ciascuno dei petardi trovato con l'etichettatura non a norma. San Giorgio in Bosco è una bella iniziativa di solidarietà quella dei bambini della scuola elementare Leonardo da Vinci di Paviola che hanno voluto incentrare il tema della loro recita natalizia sugli effetti devastanti del maltempo che ha colpito la nostra montagna. Una decisione che è nata da un simbolico gemellaggio tra questa scuola e il comune di Lusiana che ha donato ai giovani studenti la punta di un abete schiantato dal vento per la realizzazione di un albero di Natale diventato poi attore e protagonista di uno spettacolo. Così tutti attorno a schianto addobbato con lavoretti fatti dai bimbi, dalle mamme, dalle nonne. Gli alunni si sono esibiti anche davanti all'assessore regionale Elena Donazzan in ricordo una spilla fatta dai bambini che richiama gli splendidi abeti dell'altopiano.